giunsi a torino il 19 di ottobre dopo 35 giorni di viaggio la casa era in piedi tutti i familiari vivi nessuno mi aspettava ero gonfio barbuto e lacero e stentai a farmi riconoscere ritrovai gli amici pieni di vita il calore della mensa sicura la concretezza del lavoro quotidiano la gioia liberatrice del raccontare ritrovai un letto largo e pulito che a sera attimo di terrore cedette morbido sotto il mio peso il ritorno fu di mattino il treno ci sbarcò a porta nuova con me c'era un amico dal treno l'amico vide un palazzo di corso sommelier dove abitavano dei suoi parenti era intatto mi disse che male male un alloggio per la notte l'avremmo rimediato lì la città era gravemente danneggiata dai bombardamenti e dall'insurrezione ma ricordo che mi stupì l'estrema vitalità degli amici loro erano tutti vittoriosi io no grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti